Mi chiamo Daniele Recanati e vorrei parlare dei giovani. I giovani sono il bene più prezioso che abbiamo perché fanno parte del nostro futuro, fanno parte del futuro della nostra comunità ebraica. Ai giovani noi vogliamo assolutamente dare concretezza e cercare di dare a loro le basi, le basi giuste per poter incontrarsi, per poter stare insieme. Questo benedetto centro sociale che avevamo noi quando eravamo noi giovani, in cui ci incontravamo, noi vorremmo cercare tramite fondrasini e donazioni di ricreare questo spazio per fare in modo che loro si incontrino, che stiano insieme, che scambiano le loro idee, una maniera anche per cercare di evitare quello che potrebbe essere l'assimilazione o la fuoriuscita di questi ragazzi qua. Altre cose importanti sono gli scambi con le altre scuole in Europa, soprattutto in Israele, anche per migliorare la lingua ebraica, per migliorare l'ebraismo. Lo sport è estremamente importante, l'assessore al momento, Ilan Boni, è stato anche molto bravo a riunire le scuole, a far rincontrare questi ragazzi e noi cercheremo di fare la stessa cosa, cercare di fare qualsiasi cosa perché i giovani siano uniti, stiano insieme, crescano insieme, insieme crescano loro, insieme alla loro identità ebraica, che è estremamente importante per la continuazione di una comunità ebraica.